Le lezioni di chitarra sono rivolte a tutti i tipi di pubblico. Si basa fondamentalmente sulla tecnica della mano destra, soprattutto sul ritmo, sul discorso ritmico e sulla regolarità del ritmo e del metronomo naturale che è la mano nel suonare la chitarra. E poi sulla tecnica della mano sinistra, con le posizioni degli accordi, sullo studio dell'armonia, soprattutto della musica moderna di derivazione jazzistica, vale a dire blues, rock e chitarra acustica fingerstyle. L'accompagnamento delle canzoni Gli assoli Insieme ad uno studio teorico, soprattutto armonico nella costruzione degli accordi, Gli assoli Gli assoli Gli assoli Gli assoli Gli assoli Gli assoli Gli assoli